La delega alle case popolari che il sindaco di Chieti Diego Ferrara aveva affidato all'assessore Enrico Raimondi non è più in capo all'avvocato Tiatino che ieri sera con una lettera inviata per posta elettronica ha annunciato al primo cittadino la volontà di rinunciare all'incarico. Raimondi resta comunque in giunta conservando l'assessorato al personale, agli affari legali, ai rapporti con le società partecipate e con le organizzazioni sindacali. La decisione assumerebbe però una valenza fortemente simbolica perché arriverebbe in risposta alla nomina di Angela Falcone in qualità di dirigente del servizio politiche sociali e abitative decretata dal sindaco Ferrara e letta politicamente come una vittoria della causa perorata dal polo civico guidato da Paolo De Cesare e che nella compagine di centrosinistra a cui fa riferimento l'assessore Raimondi avrebbe creato qualche malumore. Lo scenario attuale potrebbe aprire dunque a possibili traballamenti politici nella maggioranza in un periodo complicato per il comune di Chieti dalla bocciatura del piano di rientro da parte della Corte dei Conti e dall'approvazione del nuovo bilancio di previsione con scadenza il 31 maggio. Come rivela l'articolo di Gianluca Lettieri pubblicato sul quotidiano al centro l'assessore Raimondi rinuncia alla delega in questione in considerazione dell'aumento dell'impegno mio personale in ragione del conferimento della delega ai rapporti con le società partecipate e in ragione del fatto che il mio regime di impegno nella giunta è come noto ad orario ridotto. Così si legge nella lettera inviata al sindaco Ferrara. Raimondi aggiunge dunque la volontà di rimettere nella disponibilità del primo cittadino la delega assessorire alle politiche della casa, da me fino ad ora mantenuta anche per l'assenza di un dirigente stabile al settore in cui l'ufficio è incardinato. Dal momento che il dirigente è stato nominato, continua l'assessore, le rimetto la relativa delega, sottolineando che l'ufficio è incardinato nel settore politiche della casa che a seguito dell'adozione della macro struttura dell'ente è denominato politiche sociali e abitative. E poi la conclusione. Molte delle attività sono state già espletate e per il futuro si tratta di garantire la regolarità nelle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli in emergenza abitativa in base al nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale su proposta della giunta. Di conseguenza le attività a cui si dovrà sovrintendere rappresentano ordinaria amministrazione e richiedono esclusivamente il potenziamento dell'ufficio in termini di organico. Il sindaco Ferrara dovrà ora valutare la situazione convocando giunta e assessore e decidendosi accettare o meno la rinuncia alla delega dell'assessore Enrico Raimondi.